Il Castrovillari di Patron di Diego non va oltre il pari nel match casalingo, valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie D, contro la C-Reale di Mister Romano. Un match caratterizzato in bene, dalla solidità messa in campo dagli ultras rossonieri UC11 che hanno consegnato nell'intervallo ai tifosi siciliani un assegno di 850 euro da consegnare ai familiari del giovane Sebastiano Quattrocchi, operato per un tumore al cervello nei giorni scorsi a Sydney in Australia. Ed in male per il forte vento che ha caratterizzato la partita nel secondo tempo. Ma andiamo alla cronaca del match, al quarto minuto padroni di casa pericolosi con Ennin servito da Ielo che da buona posizione impegna a terra Biondi. Tre minuti più tardi ancora il numero 9 rossonero protagonista, favorito da uno svarione difensivo carica al sinistro, questa volta si salva in angolo con i piedi il numero 1 Granata. All'ottavo è Pandolfi ad avere l'occasione della vita, Lanza lo serve dalla destra, il piattone del numero 7 rossonero da pochi passi incredibilmente finisce a lato. All'undicesimo si fanno vedere i siciliani dalle parti di Galluzzo, lancio di 40 metri di Campanaro per Madonia, stoppa a seguire, pennellata perfetta per Savanarola che di controbalzo da buonissima posizione fa la barba al palo della porta rossonera. Al dodicesimo il Castrovillari passa, calcio di punizione di Lavrendi per puntoriere, la corta respinta della difesa siciliana finisce a Forgione che si gira bene e di collo pieno lascia partire una sassata che lascia impietrito Biondi. Castrovillari in vantaggio con un euro goal di Cocchi Forgione festeggiato dai compagni e poi sotto la tribuna per la dedica speciale. Caricato dal gol Forgione ci riprova al sedicesimo, il destro risulta debole, para con facilità a Biondi. Al ventiduesimo si affaccia la Cireale nella metà a campo rossonera, Manfrellotti si libera dalla gabbia di Lomasto e prova ad incrociare il sinistro, la palla finisce di poco fuori. Ancora Granata al ventisettesimo, Manfrellotti serve al centro area Madonia che prova la zampata in anticipo, para distinto Galluzzo. Al ventinovesimo l'estremo difensore rossonero esce su Savanarola lanciato da Aprile fuori dalla propria area di rigore. L'arbitro estrae il cartellino giallo al portiere rossonero. Nel finale di tempo una buona trama offensiva da parte dei siciliani, Madonia aprile Madonia. Il tentativo di portare in avanti il pallone con il tacco al numero 10 trova pronto in uscita Galluzzo. Finisce così senza extra time il primo tempo con il Castrovilla rinvantaggio di un gol. Nei secondi 45 minuti la partita è condizionata dal forte vento che soffia alle spalle dei siciliani. Al primo minuto caparbia azione di puntoriere sulla fascia sinistra, cross in mezzo per Ennin, che prova la volè di destro e ben piazzato sul primo palo biondi. Gli fa eco all'ottavo minuto Manfrellotti servito da Madonia e il colpo di testa del numero 9 Granata chiama gli straordinari Galluzzo. Al trentaseisimo ancora protagonista è il numero 1 Castrovillarese chiamato alla parata a terra dal solito Madonia su calcio di punizione. Al trentatresimo la Cireale pareggia, Madonia vince un rimpallo in area rossonera, mette dall'altra parte per Leotta subentrato a tramonte che incredibilmente solo da due passi fulmina Galluzzo. Doccia fredda per i rossoneri che dovranno spiegare a loro stessi come Leotta potesse essere lasciato da solo in piena area. I padroni di casa non ci stanno e provano a reagire. Al trentaseisimo con puntoriere, il sinistro del giocatore finisce alto sulla traversa. Al quarantunesimo l'azione più ghiotta per i padroni di casa per riportarsi in vantaggio. Canale subentrato a Pandolfi va via sulla sinistra alla sua maniera, mette in mezzo un pallone delizioso per puntoriere che prova a girarsi senza trovare lo specchio della porta anziché servire Ennin ben piazzato sul dischetto del rigore. Al quarantaseisimo la Cireale potrebbe addirittura vincerla la partita. Manfrellotti prova il destro a giro da buona posizione. Galluzzo con un colpo di reni tocca sulla traversa. Sulla ribattuta Grimaldi anticipa l'intervento di Leotta sotto porta. Dopodiché non succede più nulla di rilevante. Al quarantatesimo l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce così uno a uno il risultato tutto sommato giusto. Mister, un risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto nei due tempi? Sono arrabbiato perché a una squadra del genere come la Cireale, Sperta, Sorgnona, che c'è dei giocatori importanti, non possiamo dare la possibilità di stare in partita dove noi al primo tempo abbiamo creato tante situazioni. Poi è normale che alla minima occasione loro non ti perdonano. Ma Donia sia nel primo che nel secondo tempo ha fatto quello che ha voluto sulla fascia sinistra? Ha fatto quello che ha voluto, è un giocatore importante. Però noi non dimentichiamo che dalla loro fascia abbiamo creato tantissime situazioni dove noi potevamo sfruttarle meglio, ripeto. In questo momento è una squadra molto giovane che magari non capisce ancora che quando la partita può sembrare facile dobbiamo ammazzarla. Non siamo stati bravi, tant'è vero che abbiamo avuto una situazione importantissima alla fine che lì dovevamo sfruttarla. M. Romano, archiviata questa partita che nel finale di tempo avete rischiato anche di vincere, mercoledì c'è il derby col Gela. Prossima partita, mercoledì, impegno sentito da parte delle tifoserie, è un derby molto sentito col Gela. Sarà sicuramente una gara difficile, ma d'altronde in questo campionato non c'è niente di scontato. Se vai a vedere i risultati di oggi sono risultati a sorpresa. Speriamo di continuare su questo cammino, cercando in questo momento di fare più punti possibili e poi arrivare alla sosta, recuperare un po' di lavoro, un po' di energie, recuperare qualche giocatore, qualcuno che verrà dentro sicuramente e poi come si sa da dicembre comincia un altro campionato. Perciò stiamo valutando tantissime cose. Direttore, qual è lo stato di salute della società attualmente? Poi se ci saranno movimenti in entrata e in uscita per quanto riguarda il mercato della Cireale? Noi già stiamo lavorando, abbiamo già fatto un acquisto che oggi è esordito, del Simone Pantone. Nei prossimi giorni arriveranno altri due innesti e altrettanti movimenti in uscita. A questo punto diciamo che la situazione è molto serena, continuiamo ad andare avanti e a guardare il futuro serenamente in questo momento che già da mercoledì è proprio imminente, quindi siamo concentrati su questa partita col Gela che è importante.